di nuovo bentrovati ragazzi a tutti voi da manual questo è il bar del calcio ragazzi oggi si fa 2000 oggi è così oggi è così benvenuti partiamo subito con la nostra intro cara community del bar del calcio bentrovata ti ricordo che sono in vendita i miei libri a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato fuggire per rinascere trovate anche gli altri due libri una storia vera e la stella verde tutto in descrizione a questo video avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto ti ricordo inoltre il nostro sito ve lo dico qui punto com all'interno del quale come potete vedere una volta entrati nel sito cliccate sul bar del calcio cliccate di nuovo sul bar del calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale con eh opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli sulla destra attenzione molto importante cliccate il tasto segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community ragazzi oggi è così giornata a duemila piena di contenuti video eh abbiamo fatto il video di questa mattina il video precedente in cui ho dato la mia formazione al fantacalcio eh e questo è il video che apre ufficialmente riapre i battenti a una rubrica che ovviamente era andata in vacanza in ferie in concomitanza dell'interruzione del della conclusione del campionato di serie A sto parlando chiaramente della rubrica dei pronostici attenzione fatemi subito chiarire una cosa perché poi ci stanno sempre i fenomeni e capiteranno comunque i fenomeni questo più che altro è una un appello rivolto ai tantissimi nuovi iscritti a oltre duemila pensate da quando è finito il campionato abbiamo avuto un boom clamoroso eh e quindi è assolutamente una eh una precisazione doverosa da fare quale precisazione quella che eh la rubrica dei pronostici eh non è altro che una rubrica all'interno della quale io vado a darvi eh anche in ottica di squadra fantacalcio perché no vado a darvi le ultime notizie provenienti dai campi al termine di tutte queste situazioni vado anche a dare la a fare il mio pronostico sulla partita tenendo conto che ragazzi eh a parte che non è il mio non è mai un invito a scommettere ma soprattutto lo prendete anche questo come un gioco perché se è vero che da una parte magari posso darvi spunto per farvi una scommessina una giocatina che ci sta che è lecita dall'altra sapete bene che questa rubrica nasce come la mia personale sfida nel appunto nel vincere eh nei confronti della sorta in che senso io ho un file un file excel un semplicissimo file excel che fa dei calcoli percentuali in base ai pronostici che io prendo o che non prendo e automaticamente mi dice stai eh ne ha indovinato il 53 per cento ne stai sbagliando il 47 per cento da inizio stagione alla fine lo scorso anno vi devo dire la verità mi sono posto un obiettivo poi mi sono reso conto che non ce capivo niente ho sbagliato proprio come obiettivo mi sono posto la luna mi sono posto troppo no mi ero posto l'obiettivo pensate un po' di arrivare al 60 per cento di pronostici di pronostici eh presi cosa impossibile sono però arrivato per una piccolissima percentuale eh sono eh leggermente quelli in più che ho preso non ricordo adesso magari scrivetelo nei commenti chi si ricorda bene la cosa eh la percentuale esatta però insomma diciamo che era 50,6 eh di di pronostici presi 49,4 di di pronostici sbagliati insomma pareggio dai è stata una parità il 60 per cento è davvero impossibile e allora l'obiettivo che mi pongo umilmente quest'anno in partenza di questa rubrica è quella eh di migliorare quanto ho fatto lo scorso anno magari arrivare a un 52, 53 per cento di di pronostici presi che insomma su un totale di 380 partite andrebbe a consolidare un buon risultato anche se di base prendere la metà dei pronostici insomma non è non è tanto tanto insomma un brutto risultato ragazzi eh detto ciò ragazzi quindi ci trasferiamo togliamo il mio faccione di turno da qui e ci trasferiamo alla ehm a vedere un pochino le ultime notizie dei campi dopodiché andrò a fare la tabella finale con i miei pronostici dopo che avrò tenuto conto di un pochino di situazioni che potrebbero appunto condizionare la mia lettura delle varie partite via al mio faccione togliamo sto faccione e andiamo subito a leggere le ultime notizie provenienti dai campi ebbene ragazzi questo per i più vecchietti è un file conosciuto per i nuovi è il famoso calcolatore di cui vi parlavo all'interno di queste celle ci sono delle formule che mi vanno a fare appunto la percentuale sul totale di partite giocate e quindi quante sono state prese e quante sono state eh sbagliate qui abbiamo ho già inserito già da diverso tempo le le giornate di questa nuova stagione partiamo quindi con questa prima giornata con il pronostico delle varie partite andiamo quindi a vedere eh le notizie provenienti dai campi cominciamo da Genoa Inter che è la gara che appunto oggi pomeriggio alle diciotte e trenta da Rai là alla stagione nel grifone spazio avanti a Bitigna sostenuto da Messias invece indisponibile Kuban causa noie muscolari metronomo di centrocampo sarà Badel coadiuvato da Frendrup e Malinowski sulle fasce Martin e Zanoli difesa diretta da Bani con ai lati The Winter e Basket tra i pali Gollini nell'Inter mister Enzaki ha recuperato da Remi Arnatovic ma dal primo minuto a Marassi in attacco ci sarà il tandem formato da Lautaro Martinez e Turam in recupero anche Zelischi dall'infortunio ma il polacco tornerà a disposizione dalla prossima partita in mediano ci saranno Mkhitaryan e Barella ai lati di Cialanoglu pronto per subentare frattesi dietro Bissechi il leggero vantaggio su Pavard come braccetto di destra ai box invece De Frai e in porta Sommer queste quindi sono le novità questa è la formazione del Genoa questa è la formazione dell'Inter quindi spostiamoci subito nell'altra schermata e io per quanto riguarda questa partita non posso che preventivare e pronosticare una vittoria dei campioni d'Italia. Andiamo alla partita successiva sempre 18 e 30 di oggi Parma contro Fiorentina vediamo le notizie provenienti dai campi sul fronte Parma a rischio forfè Bonni che in Coppa Italia ha lamentato un problema al polpaccio in alternativa si tiene pronto Partipilo sulla fascia con lo spostamento di Miaela al centro dell'attacco da trequartista a Girà Bernabè convocabili nuovi Holmquist e Cancellieri assente per infortunio Hernani Dica mediana composta da Estevez e Somm terzini a Giranno, Coulibaly e Valeri mentre al centro dell'edroguardia Circati e Balog in porta Suzuki dovrebbe spuntarla su Kikizola. Nella Fiorentina si apre il ballottaggio tra i pali, tratterracciano il nuovo arrivato De Gea, mister Palladino per la prima potrebbe confermare l'italiano, difesa guidata da Pongrasic, mette in mediana di spolverato Ambra Bat, fasce presidiate da Dodò e Parisi, avanti Khin con supporto Colpani e il recuperabile sottile non convocato Gonzales in odore di cessione. Attenti perché come dicevo per me questa è la partita che potrebbe riservare la sorpresa della giornata. e infatti io mi vado a giocare la vittoria del Parma, o meglio vado a pronosticare la vittoria del Parma. Andiamo alla gara di questa sera, 20 e 45, Milan contro Torino, nero soneri duello tra Morata e Jovic per il ruolo di terminale offensivo dal primo minuto, sostenuto poi dal ristabilito Pulisic. Cucu Eze, ballottaggio però vivo con Salem Egers a destra e Leao. In mezzo al campo Ben Nasser e Loftucic può partire dalla panchina, rendersi ancora non al 100% della condizione. In difesa inizialmente può essere preferito Gabbia, Pavlovic al centro, terzini a Girano Calabria e Teo Hernandez. Non a disposizione Emerson Royal, non arrivato per tempo il transfer in porta Maignan. Nei Granada, slitta di una settimana e rientro degli infortunati Gineitis e Blasic. Mister Vanoli dovrebbe allora infoltire il centrocappo con Illic insieme a Linetti e Ricci. Corsie esterne presidiate da Bellanova e Lazaro, avanti Zavate la certezza. Poi al suo fianco resta sera del ballottaggio Adams Sanabbia per una maglia. Dietro Coco guiderà il terzetto dinanzi i pali di Milinkovic-Savic. Allora io qui ve lo dico sinceramente, qui vado a mettere a pronostico la vittoria del Milan, ma non vi nascondo che qui sarà una vittoria di misura del Milan, per quelle che sono le mie sensazioni. 1-0, 2-1, vediamo se poi mi sbaglio. Quindi vi dico la verità, vuol dire che dietro questo 1 c'era nascosta una fortissima tentazione di mettere pareggiotto. Andiamo quindi a legare delle 20 e 45 sempre di oggi Empoli-Monza. Allora, nell'Empoli sono acciaccati Balouviegis e Smiley, ma proveranno a stingere i denti ed essere in campo dal primo minuto nel terzetto detrato con Viti. Tra i pali, Basket, in mezzo al campo, Anderson e Malè. Fasce poi occupate da Pezzella e Giasi. Avanti, Colombo sostenuto da Esposito e Fazzini. Nel Monza, mister Nesta deve fare i conti con le condizioni non ottimali di Caprari e Lombalgia, invece non fanno parte dei convocati gli infortunati Giuric, Forson, Cragno e Ciurria. Il tecnico avanti si affiderà a Petagna con a supporto Mota e Maldini. In mezzo al campo, spazio a Bondo con Pessina dalla panchina, il ristabilito Cagliardina. Esterni saranno Birindelli e Chiriacopoulos. Dietro è aperto il duello Carboni-Caldirola come braccetto di sinistra. In porta Pizzignacco. Ecco, questa è una bella partita. Cominciamo con le prime difficoltà e quindi io a questa gara, azzardo il mio primo pareggio pronosticato di questa stagione. Partiamo con la prossima partita che quindi è Verona-Napoli in programma domani alle 18.30. Nei Giallo-Bruno, mister Zanetti potrebbe promuovere da subito titolare in attacco sostenuto da Suslov, Arui e Lazovic. In mediana andranno a sistemarsi Duda e Serdar. Sulla sinistra di difesa è in dubbio la presenza di Frise e le prese con l'infiammazione al ginocchio. In preallarme rimane O.Q. In porta Montipò. Nel Napoli il mister Conte potrebbe adattare Oliveira a braccetto di sinistra nel terzetto arretrato con Rachmani e Buongiorno dinanzi la porta di Meretta. Tutta fascia ci sarà Di Lorenzo a destra e Spinazzola sulla sinistra. Regista Lobocta con a lato Anghissà avanti Raspatori da prima punta sostenuto da Varascheia e Politano. Il Verona, che è una squadra abituata a combattere, sa che comincerà in grande salita questa stagione e quindi vada a pronosticare il 2 del Napoli. Procediamo con i nostri pronostici. Sempre le 18.30 di domani, interessante Bologna Udinese. Nel Bologna infermeria piena, infatti i misteri italiani orfano degli indisponibili Ferguson, Nella Zuzzi, Lukumi, Urbaschi e Olme. Primi passi in gruppo giovedì per Ebischer. Può ambire alla convocazione in mediana dall'inizio, occasione per Moro con Freuler e Fabian. Avanti dall'Inga sarà poi Staffetta con Castro. Esterni offensivi saranno Orsolini e Ndoie. Al centro della retroguardia ci sarà Erlich sulla sinistra. Duello Lico-Janis-Miranda in porta Scorupsi. Nell'Udinese, mister Runiaic potrebbe promuovere Brenner titolare davanti con Toven e Lucca. Va verso l'esclusione, infatti, Samarzic al centro di nuovi rumors di mercato, mentre Sanchez salterà la trasferta in Emilia e continuerà il suo percorso di allenamento per salire di condizione. A centrocampo Pagliere accompagnerà Lovic, fascio presidiati dai Zibue e Camara, dietro Perez e Giannitti ai lati di Biol in porta Ocoglie. Bella partita questa. Bella partita, ragazzi. Seppur a fatica, dico che il Bologna si porta a casa i primi tre punti della stagione. Andiamo avanti nelle nostre notizie provenienti dai campi. Altra gara in programma alle 20.45 di domani. Cagliari-Roma nei Sardi. Mister Nicola potrebbe schierarsi a due punte. Infatti, il partner di piccoli potrebbe essere la Padula, più di Paoletti, con a sostegno, appunto, Lovumbo. In mediana Marin con Macumbu, ma sono vive le alternative Prati e Deiola. Non al meglio, invece, Zortea per noie fisiche. Pronti Azzi a Ugello sulle fasce, dietro Vietesca dovrebbe fare le veci dello squalificato Mina. Tre pali, scuffette. Nei giallorossi, nei nebanco il caso di Bala. Forte l'interesse dell'Alca Diash. E i contatti tra le parti continuano. Senza l'argentino, Mister De Rossi andrebbe a scegliere tra Zaleschi e Desaravi favorito. Per completare il terzetto d'attacco con Solè e Dobdic. Squalificato Paredes dentro le FI a centrocampo. Difesa diretta da Mancini. Terzini saranno Selic e Angelino in porta. Svilar. Bella partita. Bella partita, ma nel complesso credo che la Roma avrà alla meglio della squadra isolana. Andiamo avanti. Con la gara Lazio-Venezia in programma domani alle 20.45 che ci riguarda da molto vicino. Nei bianco celesti Baroni deve sciogliere i dubbi in avanti. Prima punta gira Castellanos. Poi sulla sinistra offensiva ci sarà Zaccagni mentre a destra sorpasso di Ciaunasu Isaksen. Trequartista più Nosdin di Castrovilli che può subentrare. Dica mediana formata da Gendosi e dal ristabilito Rovella. Acciaccato Gila. Pronto Patrick al centro della difesa. Terzini. Sono favoriti Lazzari e Marusic. Ha recuperato Tavares che si accomoderà in panchina. Nei lagunari sono squalificati Izzes, Candela e El e Duck. Mentre inoltre il mister di Francesco deve inviare all'assenza degli infortunati Busio e poi Giampalo. Fuori da convocati anche Tesman. Il tecchio confida di recuperare l'extremisto di stagno e schierarlo con Pierini alle spalle della punta. Guitiacher, scusate eh. In mediana Andersen e Duncan. Cursori di fascia poi Sagrado e Zampano. Nel terzetto di difesa occasione per altare in porta Joronin. Allora ragazzi senza se senza ma mettiamo da parte le scaramanzie. Qui vado a pronosticare la vittoria della Lazio. Continuiamo quindi con le partite in programma. Questa è la gara in programma lunedì pomeriggio alle diciotto e trenta. Parlo di Lecce-Atalanta. Nell'undici Salentino può esserci spazio per Martinski dall'inizio sulla tre quarti alle spalle della punta Christovic. Ali offensive saranno poi Tete, Morente e Dorgu. Sulla sinistra di difesa ci sarà Gallo al centro esordio per Gaspar. A centrocampo Pieret affiancherà Ramadani. Nell'Atalanta c'è la Tegola Colasinac e Colasinac. Il difensore è uscito Claudicante per un programma muscolare mercoledì sera in Supercoppa europea e salterà la trasferta pugliese di campionato. Mister Gasperini può adattare Derun dietro con Ginsidi e Ien. Il tecnico a centrocampo si affiderà a Ederson e Pasalic. Poi le fasce saranno occupate da Zappacosta e Ruggeri. Avanti le Dequi con a sostegno De Catelare e Luckman. Non al meglio Zagnolo per un fastidio al piede, ma spera di riuscire a rientrare tra i convocati. Ragazzi, io qui gioco il pareggio. Atalanta stanca dal match contro il Real Madrid del Supercoppa europea. Io vado ad azzardare un pareggio. Andiamo a chiudere le gare, i pronostici e le notizie provenienti dai campi di questa prima giornata della stagione 24-25 con la gara che lunedì sera alle 20.45 andrà a chiudere. La prima giornata appunto, Juventus-Como. Andiamo a vedere nella Juve. Mister Tiago Motta deve rinunciare agli infortunati Meretti e Azic. Il tecnico schiererà Blavic in attacco da prima punta. Agli offensive saranno Weah e Ildiz. Al centrocampo Tram farà da schermo la difesa, mentre Douglas Ruiz avrà licenza di offendere. Difesa 4 con Danilo e Cambiaso esterni. Al centro invece Bremer e Gatti. Tra i pali di Gregorio. Nei lariani, Mister Fabregas dovrebbe schierare Cutrone a supporto di Belotti in attacco, ma pronto a dar manforte a gara in corso rimane Verdi. Agli offensive si disporranno strefezza da una parte e da Cugna. In mezzo al campo, Braudomer si gioca una maglia con Engerhalt. Scusate, ma i nomi nuovi arrivati devo prenderci con Firenze. Infortunato Baranno, occasione per Goldanica al centro della difesa, mentre a destra spazio a Cassandro, complice alla squalifica di Jovine, che tra l'altro è pure infortunato. Tra i pali Reina può avere la meglio su Audero. Anche in questo caso, ragazzi, il pronostico mi sembra abbastanza semplice e dico Juventus. Andando quindi a riepilogare Bologna-Udinese 1, Cagliari-Roma 2, Empoli-Monza X, Genoa-Inter 2, Verona-Napoli 2, Juventus-Como 1, Lazio-Venezia 1, Lecce-Atalanta X, Milan-Torino 1 e Parma-Fiorentina 1. Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate di questi pronostici. Ditemi la vostra nei commenti. Non mi resta che darvi appuntamento alle 18.30 per dare il via alle dirette del nostro campionato di Serie A. Vi mando un abbraccio, mettendo un bel mi piace da Mannone e da Bar del Calcio. È tutto. Un saluto a tutti.